Eccoci e bentornati sul mio canale, riprendiamo con LEGO Marvel Super Heroes, la nostra caccia all'uomo sabbia. Su 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 su, andiamo uomo ragno. Dai 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 dai. Montiamolo. Mi stavo dicendo, come nel video precedente, anche questa parte era contenuta nella demo, quindi per quello mi vedete veramente così ferrato, diretto, che so già dove andare. Così sconfiggiamo l'uomo sabbia e vediamo che cosa succede, perché dobbiamo fermare il Dottor Destino, che vuole prendere tutti i mattoncini cosmici per creare un'arma di distruzione, un mega raggio. Allora, dobbiamo andare ad aprire l'altro, vediamo eh, utilizziamo sempre il senso di ragno dell'amico appunto Spider-Man. Dobbiamo fare qualcosa da queste parti, vediamo se mi ricordo eh, che dobbiamo rompere quest'altro apposto. Allora, dobbiamo prendere Iron Man, che ovviamente andrà a rompere questa parte metallizzata, perché rompe le parti metallizzate. Poi dobbiamo prendere l'uomo ragno, eccolo qui. Andiamo amico, ok. Eccolo qua, vai, tira, 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 voilà. A posto. Adesso buttiamo giù la della Star. Vai, 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 così ci porta su e andiamo a fare il duello con l'uomo sabbia. Eccolo. Allora, andiamo a raggiungere questa piattaforma. No, 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 torna indietro, dove cavolo vai? Allora, dobbiamo andare da Hulk e lo dobbiamo far tornare piccolino, quindi è meglio deve trasformarsi. Allora. Vai. Perfetto. Ovviamente, come sapete, Hulk è Bruce Banner, che quando si arrabbia... Oh. Boni. Scusa. No, mi fai aggrappare a me, amico Spider-Man. Per aggrapparmi... Allora, tu vai... Perfetto. Prendi Bruce. No, no, Bruce voglio. Mi dai Bruce, ok. Ok, andiamo. Perfetto. Adesso lo facciamo ritrasformare. No, no, uno. Ok. Vai, arrabbiati! Arrabbiati! Voilà! E adesso prendiamo questo qui. Voilà. Chi è? Allora, questo se non mi ricordo male lo dobbiamo comporre. È una specie di raggio che spara l'acqua. Cosa del genere. Andiamo un po'. Voilà. Vieni qua, amico Uomo Zabbia. Sciogliti, sciogliti. Che botta. Voilà. Vai, andiamo, andiamo, andiamo. Ma non è finita qua. Mamma mia, che devasto che sta facendo l'uomo Zabbia. Montiamo quest'altra carrucola. Voilà. Vieni da me. Vieni da me, Bruce. No, 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 no. Mi devi prendere la carrucoletta. No, me l'hai fatta roba. Mannaggia a te, Hulk. Sei stato lentissimo. Eccola. Vai, vai, vai. Ok. Beccati questo. È immortalissimo l'amico Uomo Zabbia. Abominio, penso che già l'abbiamo fatto secco, eh. Già ce lo siamo tolto dalle scatole. Vabbè, ci abbiamo solamente due guaricini. Allora, se non ricordo male, dobbiamo andare qua. Perfetto. Attivato. E andiamo dall'altro che è. Lo attiva. Spider-Man. Vai, 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 vai. Ok. Attiva, attiva. Perfetto. Cacchio. Oh, oh. Bruce. No, ma è morto Bruce. Ah no, ok. Allora, dovevamo attivare questi. Ah, eccolo. C'è ancora Spider-Man. Dobbiamo prendere quel perno. Dobbiamo agganciarci a quel perno. Vai, 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 vai. Perfetto, risucchiamo l'uomo sabbia. Mettiamo un bel tappo, così non lo vediamo mai più. Ciao, ciao. Aspetta che... Ti trasformati. Vai, arrabbiati, amico. Grande. Ok. Voilà. E anche l'uomo sabbia ce lo siamo tolti dalle scatole. Arrestatelo, va. È l'abominio che non riesce a entrarci perché no. Cosmic Brick, Coulson. E assicurato che si rende al luogo Fantastic Four del lavoro per analisi. Sì, signor. Hulk, potresti darei un po' di questo dottore? Tu si chiama le Cosmic Bricks? L'uomo si è venuto dalla Sky Surfer you encountered. Mi ha dato Reed Richards il lavoro di capire perché tutti sembra di volerlo. Grazie per la sua helpa, Spider-Man. C'è sempre un posto in questa operazione per un ero come te. Come ho tempo per questo. Ho un testo di trigonometrii morgeno. La mia madre mi ha bisogno di prendere un paio di pezzi. E sto dormendo in pezzi. Quindi, chi è dietro tutto questo? Cosa stanno facendo? E sarà il momento di prendere il mio hot tub? Non lo so, vorrei sapere. E sì. Tony, volete tornare a Stark Tower e provate a prendere qualche risposta. Mannaggia. Sand Central Station, livello completato. Iron Man Mark 6. La cosa bella della serie Lego di tutti i giochi, non so se ce l'avete mai giocato. Io, ovviamente, un altro a cui ho giocato è Lego Indiana Jones. E' che oltre, ovviamente, a una trama veramente molto divertente. E che ci siano tutti questi sketch molto simpatici, molto divertenti. Che rendono il gioco ancora più... più simpatico. Mamma mia quanti bei mattoncini che abbiamo preso. 72 e... e 5 e 4 e 30. Perfetto. Ok. 0 di 10. Livello completato. Continua storia. Ok ragazzi, ci fermiamo qui e riprendiamo nel prossimo video, sempre qui con Lego Marvel Super Heroes. 스타 viene da tecnese... Papas... Subito! Unesame...